Rosetti ascensori, in Perugia, Ponte Felcino, via Grazia del Dead Mega Chime, Old Fiam 681243, P0250561, boot in 1968, Fiam 4 persone, 15 kg, Austin, Perugia, via Fiam Elevators, boot in iceberg, 7 ascensori 4 4 5 5 6 7 8 9 10 10 10 11 11 12 13 14 15 15 16 17 17